Il servizio in post per Amir Sims, uno contro uno con Schenghelia, fade away di Amir Sims, grande protagonista contro Napoli. La fluidità è con tutti i giocatori coinvolti. Ha cambiato anche spacchia con l'inserimento di Heidegger e di Jordan Parks. Il sapere che in quella situazione ha bisogno di riempire l'area con altri giocatori, però... Lundberg da tre punti, il pallone va a sbattere sul ferro. Allora di nuovo Venezia vuole correre a tutto campo questa volta. Jordan Parks prende il fallo, segna con Mascolo che li frana addosso. Ed è una tra quelle cose che avevamo detto, no? Venezia ha bisogno di provare a correre, l'ha fatto due volte consecutive. Una a Bologna è stata brava a rientrare, ma poi non ha sfruttato dall'altra parte. Qui invece sono venuti tre punti, è venuto... Di nuovo nell'angolo Taker contro Paiola, l'aiuto di Dunston. Gran circolazione di palla in questo caso di Venezia con Jordan Parks che va ad appoggiare. E fallo subito. Di là in automatico fanno la scelta migliore. Questo il replay dell'assist di Ray John Taker per Jordan Parks. Qui anche le quali... Formazioni 83 a 53. 9 punti di Zizic che settimana scorsa ne ha realizzati 16 nel match. Incredibilmente perso dalla Virtus contro... Grazie a tutti.